Amici del canale Viva la Porta Ventura, ci troviamo nel posto più emblematico e simbolico dell'isola che è il passo che divide il lato estero dall'alto west dell'isola e precisamente ci troviamo in prossimità di Cofete Cofete è questo paese che è molto reggente, secondo me è una zona centrale è una zona più serbazia dell'isola, quindi non è particolarizzata Sì, non è particolarizzata, ma sono un po' di più, non è particolarizzata Sghiaccia un po' di più, adesso me la faccio vedere Sì, vediamo Vitte tecniche, adesso mi spara Niente Cofete Cofete Siamo arrivati a Quartaventura Grazie per la visione